Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video Oggi c'è una persona veramente speciale qui con me Di chi sto parlando? Ciao a tutti, io mi chiamo Marci Catena Perché praticamente, aspetta un attimino Perché io piazzo le catene Anche qui, no, no, oggi basta Catena man No, oggi basta, no No, no, Marci Ti butto fuori Marci, guarda che bello Eh, però non è male qua Eh, non è male per niente No, però questa me la cavi adesso, quella lassù Eh, sì, subito, subito Catena man Catena man Dobbiamo fare una cosa oggi Sono Mr. Catena e voglio sentire quello che mi devi dire Aspetta, aspetta Che non si ripeta mai più una cosa del genere Aspetta, aspetta A mia discolpa chiedo 30.000 mi piace Ok, 30.000 mi piace per questo video Va bene Perché oggi, spiega che cosa facciamo Oggi andremo nel Nether Faremo una spedizione incredibilmente assurda E porteremo un Oglin a casa Eh già, perché guarda Seguimi Perché io qua sto facendo un circo Dove tengo tutti i mostri Trofei dei miei mostri Là abbiamo messo il Creeper Là abbiamo la bestia Lì abbiamo l'illager E ci manca la collezione, Marci Un Oglin Però diventerà Zoglin No? Ma sai che lo Zoglin è bellissimo Non so se l'hai mai visto È proprio bello È proprio bello Allora quindi Andiamo subito nel Nether Forza, forza, forza E non sarà facile Non sarà facile per niente Aspetta, aspetta, aspetta Prendiamo per sicurezza Dell'ossidiana Perché poi dobbiamo riportarlo qua Giustamente Scegliamo già il nome Ho una targhetta Allora come nome Zeltrude mi viene da dire Zeltrude mi piace Sì sì mi piace Mi piace Zeltrude Io pensavo di chiamarlo Zoe Però mi piace anche Zeltrude Zoe? No no mi piace Zoe Zoe perché è Zoglin Zoe Zoe si scrive Z Zoe 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 mi piace molto Allora Andiamo giù di sotto Prendiamo Prendiamo un po' di blocchi Di ossidiana Perché io non so Dove Spawn C'è spawna Nel bioma rosso Dovrebbe Nel bioma rosso Sì nel bioma rosso Nel bioma rosso Però il bioma rosso è un pochettino lontano Da dove Da dove spawniamo lì Quindi Capito? Capito Allora Ossidiano 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 Ma secondo te entra nelle barche? Lui? Non lo so Ce ne ho una Ce ne ho una Ho preso anche un guinzaglio Non si sa mai Però mi raccomando Stai attento a spine Perché non possiamo permetterci Di ucciderlo Ok ok Non ti preoccupare Allora Non ti preoccupare Prendiamo già Delle stazzonate Dove sei? Prendiamo già delle stazzonate Io penso qua Ok l'ossidiano Ne avevi qua un bozzo Cosa hai preso? Qua ossidiano Perché il vetro di È l'ossidiano Ottiene un blocco Ah ok Ti vedo Se rubi qualcosa No Sto rubando l'ossidiano Avevi due stacche Allora signor Marci Un acciarino serve adesso Sento che stai mettendo le catene Ti ha Eh sì Potrebbe essere l'ultimo video In compagnia di Marci Quindi salutiamolo No Sbagliato Sbagliato Li abbiamo voluto bene Allora aspetta Aspetta un attimo Ce l'hai l'accendino Io no Uno stacchi 23 di ossidiano Ce l'ho Ce l'ho Ti tranquillo 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 Oh L'acqua Oh Oh Hai spine ti ricordo Ho spine Hai ragione Hai spine Sei spinoso Vieni Dai Andiamo Andiamo Oh ti giuro che si fa arrabbiare Guarda qui cosa c'è Oh il nuovo blocco Come si chiama Minerale Di Diamante Di diamante Ah l'hai già visto Posso provare a piazzarlo Eh piazzalo va bene Bello Ti piace E se lo spacco No perché l'ho preso con tocco di velluto Ok Eh no perché lo vuoi spaccare con fortuna Ho capito No perché mi piace No perché mi piace Ma è bellissimo È bello Si chiama pietro perché torna indietro Dai andiamo Dai andiamo forza Perché fa sempre di resta battuta Anche a 25 anni Ho capito Allora entriamo Non sarà facile Aspetta No entriamo Perché si potrebbe È la prima volta che entro nel tuo nether dell'hardcore È un po' stravagante Guarda Si entra in una farm Proprio così Vieni Bello Oh Oh No Ai Oh Ma c'è un affogato con il tridente E c'è anche un pollo E io come ci esco da qua Devi tornare qua su Tornare qua su Vieni È una farm di tridenti questa L'avevo capito Vieni Non ce la fai Ce l'hai C'è un tocco di velluto Un tocco di velluto Spaccami il vetro Ok aspetta Arrivo subito Sono andato in panico Povero Marci Vediamo Un tocco di velluto Qua ok Vediamo Da qua Prego Sei fatta? Non posso passare Perché c'è la Signor Marci mi sta veramente scoczando Lei Mi sta Mi sta veramente Ecco qua Bravissimo Sistemato Tac Possiamo andare Magari rimettiamo anche la botola Perché dai Lo sai Ah la botola Hai ragione La botola Non lo so Infatti L'hai tolta tu Ci diamo una mossa Non riesco a scendere Non riesco a scendere Non riesco a scendere Mettiamo questa botola Ok perfetto Allora Quindi Adesso si chiama Oh scusa Allora adesso si chiama L'Oglin O Zoglin Oglin No? Oglin Nel Nether si chiama Oglin E tecnicamente diventa Zoglin Tu non hai l'Elytra vero? No Che pazienza che ho Mamma mia Dai Andiamo C'ho dell'Ender Perle Però me l'avevi lasciata una Secondo me Attento 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 Via Bravissimo Ehi Ehi A cui ce la facciamo? Non muore? Oh non muore Non muore quel maledetto L'ho preso Ma non è morto con un colpo di Si provo? Ti rendi conto? È lontano? Lo sto Lo sto Ho beccato Bravo E cosa ne sai che non sono stato io? Sei stato tu infatti Perché Non lo so perché Ok io lo so Dai vieni 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 Stai tranquillo Allora come ti dicevo Quel maialino Nasce Come si chiama? La Crimson Forest 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 di Crimson E non è proprio vicinissima qua Ok Quindi Già se ci creiamo questo passaggio Lui si seguirà Capito? Secondo me è un po' meglio È un po' me è un po' me è un po' meglio Però non vorrei Che lui sia come Come grandezza un 2x2 Ti immagini è un po' un problema Potrebbe essere Potrebbe aver mangiato molti funghi quindi Sì è effettivamente sì Basta che non gli dai quelli blu Perché se no scappa Allora lui è infatti potremmo utilizzare anche quello blu No? Perché lui scappa Sì per farlo scappare esatto Ok Sei carico Non ti vedo io 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 No sei tu quello che non è carico Io non ti vedo boh Io Cavolo ti dico ok facciamo una passeggiata No ti dico catturiamo un ogre All'interno Oh Ma cos'è? Oh 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 Non spingere perché Ok siamo Aspetta aspetta Via Fammi fare Una piccola scalettina Bravo Stai attento Marci Mannaggia ma non vedo C'è un sacco di nebbia Mannaggia Non posso tagliare la nebbia? Eh sai com'è la nebbia Marci Non è che la soffi via Come Come quel fiore il soffione Come si chiama Prova riprova Riprova No niente Allora dai facciamo un ponte Non succede niente Basta che E' sicuro che so da questa parte vero? No Sto andando completamente a caso Perché non mi ricordo Dove Beh interessante Interessante Dai andiamo Andiamo alla scoperta Eh O no Va bene Sì 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 Potrei fare così Marci Non è il momento di scherzare questo Non è il momento di scherzare questo Ti ricordo Ti ricordo che è una hardcore Sì Ok boss Calma Calma Ti vuole calma E boss Freddo Vabbè Marci è completamente impazzito Ok Non so io continuerei qua Tu cosa dici? Io sto andando Ma dove sei? Come hai fatto ad andar là? Ma aspettami un attimo Parcure Dai Ma non mi aspetti nemmeno Ma guarda il bioma Peggiore di sempre L'abbiamo trovato Forse lascia qualcosa Però all'altra destra Sto per cascare Mamma mia Boss Occhio dietro Occhio occhio L'ho visto L'ho visto L'ho visto Stai tranquillo Mi chiamavano il pollo barlocco Il pollo Non lo so neanche cosa voglia di Oh che rumori inquietanti Devo andare di là Bravo Andiamo di qua Boss dove sei? Dai Sono nella foresta Ho capito Ma non ti vedo più io Sono passato da sotto Sì dietro Da sotto Eccoti 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 Ciao Eccoci Ma era vicinissimo Ma io avevo l'elitra Per quello Oh Ma pensavo fosse più lontana No era sopra quella di prima Allora siamo arrivati E se abbiamo fortuna Dovrebbe già essere spawnato Vedo un sacco di piglin Non c'è Non lo vedo No non lo vedo Eh ma basta che fai avanti e indietro Dici Secondo me Tento 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 Non toccate il mio amico Non dovete Non dovete toccare il mio amico Oh ma quanti sono? Guarda questo Ha raccolto la spada in oro Del suo amico Cioè quello Gli ha ucciso Il suo amico davanti E ha raccolto la sua spada in oro Cioè sono proprio golosi Golosi Ma muori Maledetto Dove sei? Eh sono lontano io Ma dove sei andato? Sono lontano Ma mi hai lasciato da solo? Non è vero Io sono qua nella foresta Non mi vedi? Qua Oh no Sono indietro Ma era indietro di me Sono indietro Sono indietro Togli spine Togli spine Anche se ti farà più danno Togli spine E quello con spine Cosa che era? La chest Vero? Si Tiro fermo Faccio il portale Ok Faccio il giro Tiro fermo Non portarlo da me Aspetta Attento che ti sta mirando Resisti un attimo Resisti un secondino No lo vuole uccidere lui Mannaggia no Ma che cavolo fa? Maledetti Bravo bravo Marci Devi fare in fretta Boss Si si ci sono Boss ho l'ansia Ce n'è un'altra in fondo pure Ok Ci sono ci sono ci sono Ci sono ci sono Vai Vado Vai 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 Ti copro io Si Si Non mi dire che ha paura del portale E mi sa di si Eh provo il guinzaglio Non lo so Le provo tutte Prova Si 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 Attenuto 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 Vai 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 Buttalo dentro Vieni qua piccolino Vieni qua Vieni qua Vieni qua Oh E te ne vai Non si può No no si può E che è un po' pagato Dai Dai Devi togliere la corda secondo me Mettilo dentro di togliere la corda E per forza Ha paura Spaventata Me l'hai raccolta te Me l'hai raccolta Aspetta faccio io Provo Prova 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 Dai maialino Dai Entra Ok leva Io ho tolto Prova aspetta Prova a bloccarlo dentro Guarda Va bene Si 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 Riprendilo Vai Vai Portalo da qua Aspetta Aspetta Bravissimo Aspetta aspetta Tielo 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 così Tielo così Tielo tielo Manca di qua Tielo 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 tielto Ok 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 Ho tolto Buono Ma non va Come mai Boss perché non va boss Allora proviamo Più grande il portale Più grande Forse più grande Non lo so Perché non va Diciamo così Non capisco Come mai? Non lo so Ma dovrebbe andare Sì proviamo a spaccare il portale A farlo più grande proprio O accenderlo subito Non lo so Ti aiuto? Secondo me è quello Ai 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 Che male No Stai lì stai lì Ci penso io Ok accendilo accendilo Ci penso io aspetta Aspetta che c'è C'è il gas che rompe Ok Accendi accendi vai Accendo 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 Dai Mi raccomando non fargli danno eh No no non li faccio danno Aspetta Oh forse so come fare Aspetta 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 Allora qui intanto ecco Guarda facciamo così Ok Ma perché? Perché non va? Ed entraci No un altro Bossi sei? Eh sto cercando di capire perché non va Se non capisco comunque Ho provato a fare l'f3 più b Che ti fa vedere la hitbox dell'animale Ma non va Cioè è strana comunque come cosa Porca miseria Perché dovrebbe entrare Qua c'è uno piccolino aspetta Ok fallo Fallo entrare Vieni Ah paura paura Eh no Ce l'hai te? No Io non ho la corda Quindi è rimasta dentro Mamma È rimasta la la corda No rischi eh Oh è lì lo vedo Non aspetta Eh rompi un blocco Eh non è facile te l'ho detto Non è facile per niente Ho preso Ho preso Ho preso Ho messo dell'ossidiana giù purtroppo Ok Dici che se la fai? Proviamo Proviamo No il piccolo Sì se l'ho preso Vai Ti ho fatto Vai Dai piccolino Gli do un pugno Bravo bravo Dai entrasi Ok Dai uno dei due Uno dei due per favore deve entrare Allora Ma incredibile Ma come Ma io pensavo che Fosse più semplice Cavolo Ci faccio sai cosa Un altro portale qua di fianco Ok Facciamo un altro portale qua di fianco Vai E lo facciamo proprio Proprio qui Attaccato Attaccato funziona? Eh penso di sì Ma massimo di due fallo Ok dai Ci riproviamo con quest'altro eh Vai proviamo così Vediamo se così funziona Vai fallo passare In teoria solo possono uscire Signor maialino Dai vai di là Dai Non mi può uscire da lì c'è un buco Oh aspetta 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 Ho chiuso Bravo 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 Allora sono spaventati al porto del nether Palese No uno è uscito No Ok ok l'ho salvato L'ho salvato Eh non andrà mai là Si vuole il guinzaglio Che io non ce l'ho più Ce l'ho io Ce l'ho io Ok Aspetta che chiudo di nuovo qua Perfetto Ok bravissimo Vuoi venire da qua? Allora aspetta Dovrei farcela Io prendo il guinzaglio Su quello grande Ok Non riesco a prenderlo Devo andare giù Per sicurezza guarda fai così Guarda Qui Vediamo se qua riesco Oh porca miseria Ci ho cascato su So così Faccio così Faccio così Perché lo sto portando Vai Non si avvicina però Dai Piccolino Ti muovi Vieni Perché non viene? Ha proprio paura sto maiale Dai No penso che sia bloccato in qualche modo Eh vai Era un po' Era un po' qua forse Forse è questo che gli da forse Ah sì è quest'angolo qua È questo vedi Dai Vieni Sì Si è andato Non è vero Non è vero Grande Non ci credo Entra subito Marci Lo dobbiamo rinominare E non ho la corda La corda è sparita È andato di là mi sa Dov'è? 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 È qui È qui È qui Non ci credo Hai visto che ha funzionato No non ce l'ho Ce l'hai te la corda? È diventato snoglin E' ultra cattivo Au Marci porca miseria Non ca... No la corda non ce l'ho Ah sì non ti muovere Guarda in che situazione siamo Ok stai lì Stai arrivando da te Sta arrivando da te Sta arrivando da te Sta arrivando Fa un male No è tornato nel... È tornato nel... No 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 È qui è qui da me È qui da me È qui da me Ok Dimmi le coordinate Dimmi le... Allora rinominato Subito Zoe Coordinate Ma aspetta aspetta Ho una corda in più Cioè mi è sponata una corda Mi sa che si è sdoppiata la corda Ho risolto Ho risolto Ho risolto Ho risolto Ho risolto Ho risolto Vedi da me Guarda Ho risolto È sponato il piccolino pure Guarda Ho portato il piccolino pure Guarda il piccolino Oh bravissimo Davvero Mi guarda Io sono qua mi vedi Oh Eh però come facciamo Se non abbiamo la corda Una corda ce l'ho Ma questo maledetto Mi attacca Ma c'è un'altra di corda Guarda quante corde ci sono Si sdoppia Sei serio Non riesco a portarlo dentro Mi fanno L'ho preso L'ho portato dentro Vai Ok Attento Ci siamo No Ti fatti beccare No devi uscire Marci Devi uscire Ce la fai Ti aiuto io Vieni 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 Bravissimo Ci siamo Ce l'abbiamo fatta Ok Ce l'abbiamo fatta Se si sdoppia di una volta Dovremmo avere anche un'altra corda ancora Ma come fa a sdoppiarsi Abbiamo creato un bug Ma perché praticamente Ce n'era una nel nether E una nell'overward Perché lui è entrato con la corda Allora Il piccolino Come lo chiameremo Lo sceglieremo La prossima volta Lo scelgo ogni fa Lo scelgo ogni fa In commenti Dovete scrivere il nome Per il piccolino Grandissimi Siamo stati eccezionali Ragazzi Per questo video è tutto Io e Marci Siamo riusciti anche Addirittura A domesticare Sta bestia Da noi è tutto Ci vediamo al prossimo Episodio Ciao Ciao Ciao